Terra Amara, spoiler del 30-11, Altunlec sono gelosi l'uno dell'altra. Le avventure della soap opera di origini turche Terra Amara proseguono su canale 5. Nel corso dell'episodio che verrà trasmesso mercoledì 30 novembre 2022, al centro della scena ci saranno i due protagonisti Zuley Altun, Ilal Altnbilek, e Yilmazakaya, Uru Erregune. I quali faranno capire di non aver ancora smesso di amarsi pur essendosi lasciati da tempo. I genitori del piccolo Adnan, o Merfetti Campolat, saranno gelosi a vicenda durante un evento. Le anticipazioni riguardanti la 71 puntata della soap che verrà trasmessa su canale 5 mercoledì 30 novembre a partire dalle ore 14.10 circa. Dicono che Aliramet Fekeli, Keremalk, sarà in preda allo sconforto totale, il primo amore della Dark La di Unkar, Vaide Persin, si lascerà andare a un pianto disperato sulla tomba della moglie e dei figli insieme al figlioccio Yilmaz. Intanto Kaya avrà la meglio, dopo aver offerto il doppio del denaro per acquistare la tenuta di Sermin, Sibel Tazolou. Messa in vendita da lei per risolvere la sua pessima situazione economica. L'ex detenuto infastidirà il suo nemico e rivale in amore Demir, Murat Unalm, appena diventerà il nuovo proprietario della casa della cugina, in questa occasione il protagonista avrà la possibilità di entrare insieme al suo padrino Fekeli nella fortezza degli Yaman. Successivamente Yilmaz assesterà un altro colpo ai danni di Demir, visto che inaugurerà insieme al signor Alatin la Finlanda più grande del paese, durante la cena Zuleya, Ilal Altmvilek, e Yilmazlun nasconderanno la propria gelosia reciproca. Sarà evidente il fastidio che proverà Altun, nel sapere che il suo ex fidanzato, e vero padre di suo figlio Adnan, convolerà a nozze con la dottoressa Muigan, Melike Pekialova. Negli episodi precedenti di Terra Amara Uncara ha avuto sempre maggiori dubbi sulla morte del marito. Intanto Demir dopo aver messo in salvo Adnan è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Zuleya e Yilmaz si sono detti addio e l'ex detenuto ha potuto approfondire meglio la conoscenza di Muigan con la convinzione di avere finalmente il cuore libero. Invece Zuleya, dopo aver smesso di progettare la fuga con Akaia, decidendo quindi di rimanere al fianco del marito, si è sentita male appena ha visto il suo ex a cena con la dottoressa.